U pallone, no, è un'altra cosa Eccole le due formazioni disposte a centrocampo UFR in maglia bianca, Orione Ogni Santi in divisa giallo-blu Comincia Orione Ogni Santi, UFR Corner giallo-blu, forte sul secondo palo La spizzata di testa, la palla rimane lì e c'è il tap-in vincente del numero 9 giallo-blu Il gol di Andrea Fragasso Luciani con le mani, trova dietro il solito Bona, Savelli Nuovamente dal 22 Lancio di Bona alla ricerca di Oldani Arriva il numero 30 a metà fra il difensore e il portiere Arriva prima di tutti e la mette dentro per il 2-0 Il gol è di Oldani Di prima combina bene l'UFR a valle Tutto dietro forse proprio per Mataraccia Antonini sulla sinistra, sono tante le moglie bianche Antonini guarda dentro dall'altro lato Dove arriva comunque il numero 10 rotondo, cerca di trovare spazio per metterla dentro il pallone Arriva sul primo palo, ha cercato la deviazione, il numero 16 Capasso Non è riuscito a deviarla in rete Rimessa bianca, viene contro Capasso, ha cercato la verticalizzazione Poi subito cambio di fronte, la velocità di Samb che entra in area di rigore Samb, Samb, uno contro uno Il gol di Samb che la infila sul secondo pallo, fa 3-0 Lorone Ogni e Santi Comincia ora il secondo tempo Stavolta Lorone Ogni e Santi Partigli invertite rispetto al primo tempo Dunque giallo-blu che vanno ad attaccare da destra a sinistra L'UFR da sinistra a destra Per il numero 26 Carica il Mancino E c'è un gol bellissimo Il gol del numero 26 Fusco 1 Deneo entrate Corciale distanze L'UFR Gol di Fusco Penso di punizione Giallo-blu Parte Bona Col destro in porta diretto L'aria è spinta Poi Incredibile Chance Per il numero 17 Grossi Che col Mancino Non riesce a inquadrare la porta Da vicinissimo 5 in barriera per Cori Parte se non sbaglio Sadelli Sadelli Col Mancino Direttamente tra le braccia di Cori Matteo giunta Poi arriva L'UFR Conquistare il pallone Con Diego Catina Ha cercato il filtrante Che non passa Pallone arriva da Fragasso Arriva lui in anticipo Sperzata del 9 Aspetta qualche compagno Sono pochi Refinte di Fragasso Prende tempo Aspetta Brischini Arriva il 26 Sovrapposizione di Samb Quasi sui linei di fondo La mette dentro Fragasso Controlla Sposta il pallone Fragasso Occasione Poi arriva Direttamente Tra le braccia di Cori Un uomo Si continua a giocare Fusco carica Il Mancino Quasi non ne fa Un altro Rotondo contro Capodagli Rotondo col destro La insacca Fa 3 a 2 Accorcia le distanze L'UFR Va Intuito Capodagli Ma non ha potuto Fermare questo tiro Ben Direzionato Il velo a favorire La corsa di Presso Catino Che bravo Di Cucatino Il pallone dentro Il tiro La deviazione Il pallone ci stacca in rete E c'è il gol del pareggio C'è il gol del pareggio Fa 3 a 3 L'UFR Il gol È di Ruggeri Che azione L'UFR Ci ha passati In realtà Un po' di secondi Rilancio di Gori Arriva a centro campo Sventagliata di testa Prova a metterla giù L'UFR Sambo in mezzo al traffico Prova a girarsi il 21 Quella palla in diagonale Sulla destra È buona Alza la testa Traversone 20 Una deviazione Non riesce a Diviare in porta Vergari Quest'ultima scensione Anche per l'UFR Che provava ad uscirne Con Capitano Rotondo I spazi intasati Ancora Rotondo Prestatissimo da due uomini Cerca di dargli una mano di Stefano Rotondo Arriva il triplice Fisco del direttore di gara È finita 3 a 3 Tra Aurione Ogni Santi E UFR Fisco del direttore di gara